ed allora ragazze cominciamo con i copricostumi allora intanto questo scusate turchese bianco la mia coffa poi ho queste scarpe queste sono scarpe di benetton di una decina di anni fa e poi ho il mio bel cappello turchese scusate perché sono sola devo fare tutto con una mano ecco qua e questo è il primo poi abbiamo questo bianco bellissimo di calzedonia che sto indossando con questo cappello rosso guardate che bello questo cappello questo è molto bello è bianco con questa manica bellissima tipo pizzo sangallo e questo è calzedonia blu blu con paillettes sempre calzedonia le paillettes sono qui nel nel collo sempre calzedonia e stavolta ho preso il cappello nero sapete blu e nero sta bene blu e nero si può abbinare prima non si faceva ma invece ora è diventato chicchissimo abbinare il blu con il nero ragazze stiamo finendo e si stanno esaurendo i miei copricostume quindi questo blu un altro dei miei preferiti sempre calzedonia bianco con questo bordo tutto in turchese con le nappine vediamo se vi posso fare vedere vabbè non so se vede queste palline che ci sono anche qua sta benissimo il cappello turchese è sempre la borsa la borsa sempre queste sono proprio borse da mare borse per le vacanze blu blu con paillettes sempre calzedonia le paillettes sono qui nel nel collo sempre calzedonia e stavolta ho preso il cappello nero sapete blu e nero sta bene blu e nero si può abbinare prima non si faceva ma invece ora è diventato chicchissimo abbinare il blu con il nero ragazze stiamo finendo e si stanno esaurendo i miei copricostume quindi questo blu ok e ora abbiamo la noi entri questo è l'ultimo in ordine che ho comprato quest'anno guardate che bello con tutte le paillettes qui sempre ampio naturalmente guardate che carino e queste scarpe stanno bene anche qua quindi diciamo che per quest'estate come copricostume sono a posto ok ragazze allora vi ho fatto vedere tutti i miei copricostumi e appunto volevate vederli indossati spero che appunto questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo un bacio